È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. La Sampdoria fa visita al Cagliari per mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive che ne hanno rallentato la corsa verso l'Europa. Il movimento di Gaston Rabirez la lascia rimbalzare, palla dentro a cercare il taglio di Guagliarella, pallone in rete con la punta del piede. Poi Padoin, non benissimo, Ramirez il colpo di tacco, Guagliarella! La doppietta di Fabio Guagliarella! 1-2 micidiale per i Sardi che devono fare i conti con la sfortuna. Al quarantesimo cambia esauriti per tre infortuni. Nel secondo tempo però la fortuna gira. Tocco dietro su Viviano. Che colpisce in pieno Parias! Incredibile! Di mezzo allo svantaggio il Cagliari! Il cross dentro, vuoto Silvestri! Non sbaglia! Leonardo Pavoletti per il 2-2! Il controllo di Caprari si gira con il destro! Altra gran risposta di Cragno e poi pallone in calcio d'angolo! Caprari con il destro! Cragno si distende! Ci riprova Guagliarella! Pisacane davanti al suo portiere riesce a rispingere! Finisce in pareggio il secondo consecutivo per il Cagliari che conquista un preziosissimo punto in rimonta.